Mark Kaminsky, sceriffo tutto muscoli radiato dall'FBI per i suoi metodi poco ortodossi, aiuta l'amico Harry Shannon, a cui la famiglia mafiosa Petrovita ha ucciso il figlio, a trovare gli assassini. Prima simula la sua morte, poi si infiltra nella famiglia di trafficanti di droga come Gorilla, attraverso Monique, ragazza di Max, braccio destro di Petrovita. Mark crea grossi guai alla gang concorrente, ma Max, messo in ombra dal nuovo venuto, comincia a sospettarlo e fa in modo di metterlo a confronto con Shannon, ordinandogli di ucciderlo. Ma siamo alla resa dei conti, Max resta ucciso. Kaminsky si scatena contro Petrovita e Sicari, sarà riassunto dai federali.